allora buonasera ok ci siamo già parlati a lungo una mezz'ora sui fatti del giorno io mi scuso ma devo parlare dei fatti di ieri anche se molte volte i fatti di ieri sono il prologo dei fatti di oggi e sotto certi aspetti lo sono davvero ad esempio per quanto riguarda le imprese coloniali e tutto quello che ne è venuto fuori il periodo che stiamo trattando è il periodo che vada al grosso modo del 1880 al 1900 sono una decina di anni che comprendono praticamente il passaggio della sinistra la conquista della sinistra con le nuove elezioni e con la nuova legge elettorale qual era la situazione in italia all'epoca in cui c'è una nuova legge elettorale beh diciamo che la legge elettorale era una legge che veniva dal mondo piemontese quindi da una situazione antica in un certo senso la gente votava per censo e a volte si lamentava cavour uno poteva essere eletto con dieci voti perché bastava la conoscenza personale e quindi non c'erano tanto dei partiti quanto delle forme di seguito nei confronti dei singoli candidati io avevo un certo seguito e venivo eletto non venivo eletto perché rappresentavo una ideologia o un programma politico ma perché la gente si fidava di me e mi stimava diceva sì sì quello va bene sa leggere e scrivere bravo parla bene e così via questo non vuol dire che non esistessero delle correnti politiche le correnti politiche erano essenzialmente i liberali nel senso più classico della parola i conservatori anche questo nel senso più classico della parola siamo a un secolo e mezzo di distanza da allora poi c'era una formazione di socialisti radicali che si riallacciava alla tradizione repubblicana e nell'ambito della tradizione repubblicana c'era una frangia di federalisti e di mazziniani quindi diciamo che il cesto della frutta era molto composito nel senso che le gli orientamenti politici che vi ho descritto comunque esistevano allora e sotto certe forme concerti mutamenti esistono tuttora però non esistevano organizzazioni tipo quelle che noi conosciamo oggi e cioè i partiti che riassumono in una organizzazione e in una serie di finalità la loro ragione di essere c'erano degli uomini che rappresentavano queste tendenze però ovviamente a seconda delle necessità di governo questi uomini partecipavano o non partecipavano al potere politico operativo e quindi poteva facilmente accadere che un presidente un primo ministro conservatore chiamasse perché gli faceva comodo ed era utile o per ragioni elettorali un ministro delle finanze radicale o repubblicano o di sinistra quindi la composizione delle maggioranze attenzione non era quella che vediamo noi oggi si vota in parlamento la destra da una parte la sinistra dall'altra c'è un centro informe che oscilla ora di qua ora di là era il seguito del singolo leader che si spostava se il leader entrava nel governo il suo seguito personale deputati eccetera entrava nel governo e viceversa questo ha determinato un periodo che storicamente viene chiamato del trasformismo trasformismo perché appunto si passava con una certa indifferenza se vogliamo da posizioni radicali da un canto a posizioni governative dall'altro il tutto ovviamente veniva motivato come adesso stavamo esprimendo le varie motivazioni sentimentali sulla guerra in ucraina veniva motivato in vari modi ma la in realtà la molla di questo trasformismo era la partecipazione al potere e noi abbiamo alcuni esempi importanti ad esempio crispi che era un uomo repubblicano mazziniano chiaribaldino la cui prima no la cui seconda moglie addirittura è stata l'unica donna che ha partecipato alla spedizione dei mille che poi era diventato un presidente un primo ministro monarchico di destra piuttosto diciamo imperialista antifrancese eppure la francia aveva contribuito proprio al risorgimento di cui lui era stato parte in sicilia e colonialista quindi come vedete nel corso degli anni queste posizioni di principio poi venivano sfumate addirittura travolte dalla realtà politica del momento ora non è che la sinistra non abbia fatto nulla per carità la sinistra come la destra si è trovata ad affrontare dei problemi giganteschi perché si trattava di costruire un nuovo stato una realtà nuova rispetto a una situazione rivoluzionaria come quella che aveva determinato l'unità della penisola bisognava fare tutto dalle ferrovie alle strade dalle scuole al fisco dalla politica estera all'esercito dalla sanità c'era praticamente il codice penale e pensate che con crispi apparentemente intellettualmente di sinistra il codice penale viene fatto da un ministro che lui ha chiamato alla giustizia che zanardelli che è un liberale e il codice zanardelli è andato avanti per diversi decenni fin quando poi fu sostituito dal codice rocco fascista quindi sono state fatte molte cose quali erano i problemi fondamentali di questo paese nascente beh il primo problema secondo me era la questione sociale qui confluivano molte molte questioni la più grande inizialmente era la nostalgia borbonica che aveva trovato alimento nella guerra civile nella guerra cosiddetta contro i briganti però che cosa era accaduto che aveva determinato un riflesso sociale immediato nel meridione per cui poi la questione sociale si è identificata nel la questione meridionale ma non riguardava soltanto la questione meridionale ad esempio faccio un esempio tra parentesi alla fine delle guerre contro i briganti della guerra contro i briganti si sviluppa il fenomeno della emigrazione la gente povera non trova lavoro eccetera questa emigrazione che è un fatto molto importante perché milioni di italiani nei in 30 anni vanno altrove non interessò solo il meridione ad esempio il veneto era poverissimo quindi la questione dell'immigrazione interessò larghe parti del paese soprattutto il meridione ma per unire unire questo paese bisognava operare con le leggi il primo impatto è stata la estensione della legislazione piemontese a tutti gli ex stati italiani gli stati pre unitari era la soluzione più semplice ne abbiamo parlato anche l'altra volta se in toscana si pagavano per dire le tasse al 10 per cento e in piemonte si pagavano al 12 per cento era inammissibile che unendosi toscana e piemonte si pagassero ancora su due livelli diversi di di prelievo ovviamente era la legislazione piemontese a fare agio sulle legislazioni locali mentre questo è stato un problema ma non gravissimo per gli stati centrali italiani per gli ex stati centrali italiani nel meridione invece dove c'era uno stato secolare e anche per ragioni di estensione questo ha determinato dei grossi problemi pensiamo che ad esempio ad esempio la questione prettamente politica del servizio di leva servizio di leva fu esteso nel meridione con la legislazione piemontese nel periodo borbonico durante l'epoca dei borboni e il servizio di leva poteva essere scansato pagando sostituendosi con un altro eccetera eccetera l'applicazione della leva obbligatoria creò una forte diserzione da parte dei coscritti i quali si imbucarono nelle montagne nei boschi cercarono di sottrarsi alla leva questo fu un grosso problema altro problema fu ad esempio l'unificazione degli eserciti al momento dell'unità d'italia ce ne erano c'erano l'esercito piemontese poi era stato incaricato farini di fare un esercito fondendo gli eserciti degli stati pre unitari qui c'erano due poi c'era l'esercito garibaldino che aveva conquistato il sud poi c'era l'esercito borbonico ma l'italia doveva dotarsi di un esercito unico la fusione di queste realtà non fu una cosa facile assolutamente creando dissapori nemicizie concorrenze problemi di quadri di inquadramento e poi i garibaldini non erano soldati regolari gli ufficiali garibaldini erano stati nominati per il loro valore quindi per il loro merito militare ma non perché avevano fatto l'accademia e allora furono preferiti gli ufficiali borbonici che avevano combattuto contro i garibaldini perché hanno fatto l'accademia rispetto agli ufficiali garibaldini insomma questo fu un altro problema molto grave che si tradusse poi anche nella guerra che ci fu nel 66 contro l'austria dove si capì perfettamente che l'esercito non era ancora una entità omogenea guidata da persone capaci noi siamo difficilmente siamo stati guidati come esercito da persone capaci però questo non vuol dire vi ricordo ad esempio che nella battaglia di lissa dove la flotta italiana era molto molto più agguerrita moderna erano navi d'acciaio mentre gli austriaci erano navi di legno i dissapori fra i comandanti delle varie squadre navali italiane che confluivano sotto il comando di persano fecero sì che invece di avere una vittoria aveva una batosta da cui la marina non si riprese più in quel periodo eh la situazione sociale nel paese era molto grave eh noi abbiamo alcuni dati che sono impressionanti nell'ottantuno si fece un censimento per capire un po' qual era la situazione anche economica del paese e in base a questo censimento si scoprì che su diecimila abitanti ad esempio c'erano soltanto cinquantasei mezzadri e cinquantanove contadini proprietari il resto migliaia di persone erano solo bracciati che lavoravano al massimo per un semestre e con paga di fame erano quelli che oggi noi vediamo con gli immigrati nei campi di pomodoro o nei campi delle olive tenuti in quel modo qualcuno il Bertani ad esempio disse che dopo l'unità c'erano due mezze Italia un'Italia che mangiava pane bianco e un'altra Italia che mangiava pane nero perché questa era la situazione il sud era molto povero e ad esempio in Sicilia quando si estese la coscrizione militare obbligatoria i ragazzi che erano in unità di leva devono fare la visita la visita medica ricorderete abbiamo fatto anche noi a suo tempo e le statistiche sono impressionanti pensate che su 3672 minatori siciliani minatori nelle sdolfare quindi una vita assolutamente mal sana faticosa eccetera eccetera su 3672 minatori solo 203 furono dichiarati abili al servizio militare quindi anche la situazione sanitaria faceva acqua da tutte le parti la maggioranza della gente ma questo anche nell'Italia centrale mangiava riso pane pasta fagioli il resto vedeva la carne nelle feste comandate quindi le condizioni erano veramente non buone assolutamente non buone in questo sistema si introdusse fatto importante la riforma elettorale e la riforma l'elettorale fu dal punto di vista politico l'atto più importante della sinistra come vi ho detto la classe politica in realtà si era trovata ad affrontare problemi di enorme grandezza e probabilmente non era adeguata ad affrontare in più era espressa da un sistema elettorale molto ristretto e questa classe eletta era una classe eletta perché aveva del benessere alle spalle e perché aveva voglia di apparire politicamente più che una classe eletta come effettiva rappresentanza dei bisogni del paese il suffraggio elettorale aveva una base molto ristretta impensabile giorno d'oggi in certi collegi elettorali al massimo si raggiungeva un centinaio di elettori pensato e una riforma si imponeva tra l'altro il suffraggio era solo maschile secondo cavurre che si era posto il problema cavurre era una persona che vedeva il futuro bisognava allargare la base elettorale e considerare come requisiti essenziali per l'elezione il fatto che volessero essere eletti non per guadagnarci ma perché avevano già dei patrimoni quindi il censo dovevi essere ricco benestante e dovevi avere una istruzione sufficiente per capire quello che facevi o che dovevi fare nel 1882 e ormai il povero cavurre era morto da da un decennio e più la nuova legge elettorale dopo diversi contrasti le solite solite b che conosciamo quando si parla di legge elettorale aumentò il numero degli elettori fu un passo enorme ah intendiamoci lo aumentò da da mezzo milione a due milioni e qualcosa cioè in realtà su 22 25 milioni di cittadini chi votava ero privilegiato eh e si favorì quest'aumento nel numero degli elettori perché si ridusse quello che era il costo per essere eletti pensate allora un candidato doveva impegnarsi a pagare all'anno per tutta la durata della sua legislatura un'imposta di 40 lire viene da sorridere la riduzione di questa imposta portò l'onere per essere eletti a 19 lire quindi quasi fu dimezzato e l'età elettorale fu abbassata da 25 a 21 anni poi non si richiedeva più un'istruzione sufficiente ma di saper almeno leggere e scrivere dovevano dimostrare i candidati di saper leggere e scrivere questa riforma che oggi potrebbe farci sorridere intendiamoci eh fu una riforma democratica importante perché il diritto di voto praticamente passò dal 2 al 7 per cento della popolazione e solo molto più tardi siamo già nel 1912 quindi due anni due tre anni prima dello scoppio della prima guerra mondiale data il dato il progredire dell'alfabetizzazione eh giolitti estese il soffraggio elettorale a tutta la popolazione maschile del regno e anche questa fu un'altra grande rivoluzione merito della sinistra non c'è dubbio ma era una cosa che si imponeva eh obiettivamente l'ampliamento della base elettorale sia pure limitato perché poi non è che cambiarono di molto le cose portò alla camera molti uomini nuovi ma con un livello culturale molto limitato e in un certo senso non migliorò la situazione generale pensate che più di un terzo dei deputati che furono eletti nel 1882 eh era di prima nomina quindi non era legato a varie congreghe o a vari partiti eh avevano i requisiti per essere eletti e questo sviluppò ancora più intensamente quella democrazia limitata che passa sotto il nome di trasformismo perché permise l'esaltazione degli interessi dei vari leaders e dei piccoli gruppi di parlamentari che si formavano e si disfacevano accanto a loro però alla fine la nuova legge elettorale che aveva ampliato da mezzo milione a due milioni non fu qualcosa di trascendentale ma contribuì ad unificare maggiormente il paese e di questo l'ha tenuto conto poi ci fu ci furono ovviamente in questo clima diversi problemi e diversi scandali perché questo periodo eh viene considerato un periodo dove la corruzione proprio per rassicurarsi il passaggio di un gruppo a favore del governo o contro eh proprio perché favoriva coalizioni per far cadere un governo e sostituirlo con un altro oppure per interessi proprio personali fu un periodo di amplissima corruzione la cosa oggi credo non ci turba più di tanto ma per quella generazione che aveva fatto il risorgimento in nome di certi ideali liberali mazziniani eccetera 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 questo fu un grosso trauma la prima questione che venne fuori perché bisognava finanziare lo sviluppo bisognava fare le strade le perrovie la sanità per potenziare la risoluzione eccetera fu quella del risanare risanare di riassettare di dare un assetto al sistema bancario questa è una cosa che può sembrare noiosa ma quando si parla di banche noi pensiamo la banca d'Italia la banca d'Italia nacque nel mille ottocento novantatré e non nacque come la conosciamo noi oggi come un'istituzione compiuta e definitiva ma si sviluppò ovviamente nel corso del tempo acquisendo progressivamente funzioni compiti e nuove fisionomie e oneri sempre più complessi instaurando via via tutta una serie di relazioni con il sistema bancario e finanziario in genere quindi con le altre banche le banche private e con il potere politico ovviamente e con il sistema economico da dove veniva la banca d'Italia banca d'Italia non è che una mattina si sveglia e dice oggi faccio la banca d'Italia come istituto centrale la banca d'Italia veniva da una operazione complessa ma inevitabile che fu la fusione delle banche centrali preunitarie questa fusione fu fatta tenendo conto della circostanza che esistevano diversi istituti di emissione cioè che stampavano carta moneta in Italia e che bisognava coordinarli e metterli sotto una cappella quale sarebbe stata la cappella quella di Torino ovviamente perché Torino era quella che aveva vinto ma questo determinò anche l'accusa che si sente anche adesso spesso che la fusione delle banche centrali avrebbe permesso alla finanza piemontese di depredare il meridione delle sue risorse questa cosa in parte forse anche vera ma fu necessaria considerando l'unificazione politica è avvenuto l'ingente indebitamento italiano dovuto alle varie guerre risorgimentali insomma voi capite che se quando i piemontesi arrivarono a Napoli si avevano un debito pubblico di 200 e a Napoli c'era un debito pubblico di 50 e se i piemontesi avevano un deficit mentre Napoli aveva un avanzo di gestione che cosa si poteva fare lasciare le cose come stavano oppure incorporare tutto e considerare l'unica cosa possibile e cioè un tesoro del 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 dello stato italiano la la storia è un po complessa pensate che l'idea della banca centrale che poi venne adottata in Italia fu adottata storicamente prima di tutto dalla Svezia nel 1668 e 30 anni dopo nel 694 seguirono l'Inghilterra nel 1800 la Francia siamo nel periodo napoleonico nel 1814 i paesi bassi l'Austria nel 1817 il Belgio nel 1850 la Germania nel 1875 il Giappone ha adottato la banca centrale nel 1882 e l'Italia è arrivata nel 1893 ma gli Stati Uniti hanno adottato l'istituzione della banca centrale solo nel 1913 allora cerchiamo di capire Cavour aveva promosso la costituzione di una banca nazionale degli Stati Sardi con l'unificazione si arrivò alla banca nazionale del Regno d'Italia e con questa costituzione si è assorbita la banca di Parma che era una banca centrale la banca pontificia delle quattro legazioni e un'altra banca che c'era a Venezia quando scoppiò la terza guerra di indipendenza la banca nazionale del Regno d'Italia fece un prestito allo Stato italiano di 250 milioni di lire e fu autorizzata ad emettere banconote per lo stesso ammontare il regime di corso forzoso che significa queste banconote venivano stampate ma non era obbligatorio per la banca nazionale del Regno d'Italia avere una corrispondente riserva aurea e quindi non erano convertibili in metallo prezioso questa cosa non piacque a un certo punto il Parlamento chiese di fare un consorzio obbligatorio dei sei istituti esistenti di emissione di emissione cioè di stampa di moneta per coordinare l'attività cioè in pratica sino al periodo in cui governò Minghetti quindi siamo sempre nell'ambito del periodo della destra storica esistevano in Italia sei banche centrali che stampavano un banconote la sinistra che sospettava porcate e non aveva tutti i torpi chiese ed ottenne un'inchiesta in materia e questa inchiesta si è stese ovviamente a tutto il settore bancario non soltanto ai sei istituti di emissione ma al sistema bancario in genere ne venne fuori un disastro un disastro perché venne fuori che in una banca la banca romana che era un'ex banca dello Stato Pontificio non tornavano i conti ora per una banca questo è un po' difficile ad accettarsi abbiamo visto casi anche più recenti ma lasciamo bene non voglio parlare di quello che è accaduto negli ultimi anni nel settore bancario italiano a molte dei Paschi di Siena delle banche popolari parliamo di questo periodo cioè gli ispettori che andarono a verificare in base alla commissione di inchiesta i conti delle varie banche scoprirono che nella banca romana c'era un eccesso di circolante di 25 milioni sembrano cifre piccole ma dati i 25 milioni di allora erano un mare di soldi io non ho fatto il calcolo dell'aggiornamento ma insomma erano diversi miliardi in più quindi avevano stampato 25 milioni di più di quello che risultava e in più avevano emesso banconote da 50 200 e 1000 lire per altri 9 milioni con la scusa che avevano stampato delle banconote nuove perché ritiravano dalla circolazione le banconote vecchie usurate strappate sporche pacchiate ma non era così perché le banconote che erano state ritirate perché usurate venivano duplicate con gli stessi numeri di serie a Londra da una stamperia amica ovviamente che ci guadagnava sopra altrettanto ovviamente e venivano messi in circolazione come duplicati delle prime che non erano state distrutte in sostanza la banca romana aveva 25 milioni di soldi che giravano non si sapeva da dove venivano aveva 9 milioni di monete usurate che dovevano essere ritirate ma che non erano state ritirate circolavano lo stesso al posto di queste non al posto ma in aggiunta con la scusa che dovevano andare al posto in sostituzione c'erano altre 9 milioni di banconote nuove duplicate che avevano gli stessi numeri di serie delle banconote usurate diciamo che era una truffa era una truffa per fare che tutto questo giro di soldi fa sugli beh perché in questo modo la banca romana faceva vistose aperture di credito concedeva finanziamenti al settore edilizio cioè nel momento della grande speculazione ottocentesca per il risanamento di Roma per la costruzione di nuovi partieri pensate al quartiere Umbertino eccetera eccetera quindi danaro facile credito facile sviluppi enormi beh insomma sta cosa ovviamente creò dei problemi il Parlamento fece piuttosto casino governava allora Giolitti il quale essendo stato uno dei beneficiari di questa apertura di credito per ragioni politiche cercò di insabbiare l'inchiesta ma non fu possibile perché un funzionario un certo Alvisi onesto e tenace avendo fatto le indagini ed avendo i documenti che comprovavano questa truffa ne parlò con due economisti importanti dell'epoca Maffeo Pantaleoni e Napoleone con la Ianni che erano della sinistra che fecero scoppiare lo scandalo e a questo punto dovette intervenire alla magistratura fu arrestato il governatore della banca romana che nel frattempo era stato nominato senatore pensate un certo Bernardo Tan Longo fu arrestato il suo terrestriere e furono arrestate molte persone ed emerse uno scandalo gigantesco che travolse il governo che travolse Jolie travolse Cristi travolse tutto l'establishment diciamo della sinistra emerse una vicenda di intrighi di corruttere di violazioni di legge e ci furono anche degli omicidi e delle morti sospette tutto ciò avvelenò il clima politico ed aprì una lunga crisi morale della nazione perché lo scandalo della banca romana mise a nudo l'intreccio di affari ambigui di corruzione esistente nel regno e addirittura arrivò a sfiorare la corona cioè il re perché allora vi ho detto ci furono degli omicidi sospetti ad esempio era stato nominato recentemente allora il direttore del banco di Sicilia un certo Emanuele Notarbattolo di San Giovanni che era una persona seria il quale come entrò a Palermo nel banco di Sicilia ordinò il rientro di tutti gli scoperti e si impegnò limitò tutti i finanziamenti se non c'erano solide garanzie quindi si procurò un sacco di nemici subito quando Notarbattolo dovette recarsi a Roma per riferire sulla sua azione di pulizia salì in treno e stranamente il giorno dopo lo trovarono morto strano quindi si pensò ad un omicidio determinato provocato da coloro che avevano per timore dei suoi documenti eccetera eccetera un altro che fu probabilmente ammazzato era Rocco De Zerbi un calabrese un garibaldino un combattente in Sicilia una medaglia d'argento al valore militare aveva fatto la campagna contro i briganti era un famoso giornalista aveva fondato nel 1868 il piccolo di Napoli fu coinvolto nello scandalo accusato di corruzione per aver venduto il suo voto lui era segretario della commissione parlamentare di inchiesta sulle banche aveva venduto il suo voto proprio agli oppositori della commissione parlamentare di inchiesta anche questo morì non si capì bene per che cosa ma morì e probabilmente è stato ucciso poi c'è stato anche un altro che ci ha rimesso la pelle questa è una cosa diciamo più personale che politica un certo Lanti Lanti era il maggiordomo a casa di Crispi che all'epoca era primo ministro e probabilmente era l'amante della terza moglie di Cristi una certa lino no la seconda no la terza moglie di Cristi una certa lina Barbagallo anche Lanti morì pare per cause naturali ma il figlio Alberto che non aveva ereditato nulla dal padre fece delle comunicazioni al stampa dicendo di avere centinaia di lettere compromettenti scritte dal padre alla moglie di Crispi che si riferivano a questo scandalo fu uno scandalo terribile ma la cosa più importante è che poi tutto in un certo modo fu messo a tacere perché perché nel processo pesava la presenza invisibile del re allora il re era Umberto primo di Savoia e tutti sospettavano che avesse trasferito all'estero parecchi soldi che venivano tramite intermediari dalla banca romana per mantenere le amanti che gli venivano attribuite tra le quali la più nota fu che fu effettivamente la sua amante fu la duchessa Litta Visconti Arese naturalmente non si poteva incriminare il re il nome del re non fu mai fatto al processo però tutti ne parlavano e la conclusione di questa vicenda processuale fu che poi nessuno in realtà pagò per questo scandalo ma evidentemente questa situazione gettò un'ombra sinistra sulla sinistra e sul governo del paese perché i riflessi di questa ondata di corruzione dimostrò anche la fragilità della tenuta morale di questi personaggi che avevano fatto il risorgimento e ciò nonostante poi si rivelavano così così facilmente preda dei quattrini così facilmente preda così facilmente sensibili e corrottibili avevano raggiunto il potere e scialavano attorno al potere dalla crisi della banca romana dello scandalo tan lungo eccetera eccetera venne fuori la banca d'Italia venne fuori nel senso che la banca d'Italia cominciò a diventare l'unico istituto di emissione con poteri di controllo delle altre banche allora le banche potevano fare investimenti e azioni di risparmio e quindi il controllo della banca d'Italia con l'ispettorato della banca d'Italia serviva ad assicurare una certa tranquillità almeno formale nel sistema bancario e quindi nel sistema creditizio perché il sistema creditizio poi era la base dello sviluppo economico del paese tutto ciò ebbe un'influenza enorme sulle vicende economiche italiane e portò ad una serie di indirettamente ad una serie di conflitti anche all'estero perché ad esempio la mancanza di sicurezza degli investimenti cioè la lire italiana tremò perché giravano lire false che in realtà non erano false ma erano duplicati di lire che dovevano essere ritirate e che non erano state ritirate quindi una crisi diciamo inflazionistica che si riverberava nei rapporti commerciali all'estero e ci furono diversi episodi di ostilità da parte del sistema internazionale perché non si aveva fiducia nella lire italiana uno di questi problemi fu con la Francia e questo lo dobbiamo esaminare un attimo cinque minuti vi chiedo ancora l'attenzione la Francia era stata la madre madrina del risorgimento bisognava riconoscere la Francia però era anche un paese che si faceva i battisori curava i suoi interessi e l'Italia era la nuova Italia era in una posizione un po' di soggezione rispetto alla Francia ma siamo già nel 1887 1892 c'era stata la crisi di Napoleone III l'aveva perso a Sedano si era formata una repubblica laica francese che ci aveva permesso di conquistare Roma con un colpo di mano ma i rapporti con la Francia si andarono raffreddando perché nello stesso tempo noi avevamo fatto la guerra con la Prussia contro l'Austria e quindi si erano create delle relazioni interessanti fra l'Italia e la nuova Germania la nuova Germania venne fuori nei saloni di Versailles nel 1870 dopo la sconfitta francese prima era Prussia poi diventò impero tedesco quindi diciamo che l'Italia come giovincella aveva un vecchio un vecchio fidanzato che era la Francia e un una possibile tentazione che era la Germania c'era un trattato di commercio fra l'Italia e la Francia fatto in tempi non sospetti ma ad un certo punto la situazione economica italiana cambiò in che senso cambiò cambiò nel senso che cominciava a svilupparsi l'industria e l'industria si sviluppava ahimè nel settentrione perché pensiamo ad esempio alla siderurgia quando il governo italiano decise di fare un grosso impianto siderurgico nell'Italia centrale non andò nel sud dove già c'era un impianto siderurgico quello di Morgiana ma si fermò a Terni nell'Italia centrale per due ragioni anzi tre a Terni bisognava fare i cannoni Terni era in una regione centrale quindi discosta dalle frontiere e quindi poteva assicurare un rifornimento di armi relativamente tranquilli non c'era ancora l'aviazione e poi c'era l'acqua c'era l'acqua mentre nel sud non c'era e la siderurgia divora milioni di litri di acqua le altre attività industriali che erano in Piemonte in Lombardia nel Veneto avevano un mercato estero a due passi bastava superare la frontiera c'era il mercato francese il mercato strano il mercato svizzero il mercato tedesco era più facile molto più facile inoltre le comunicazioni nel nord erano già state sviluppate dal punto di vista stradale e ferroviario mentre nel sud bisognava praticamente fare tutto quindi il decentramento industriale è avvenuto per una serie di ragioni oggettive nel sud era prevalente l'attività agricola ma nelle condizioni di cui vi ho già parlato quattro gatti che avevano la terra e una massa di schiavi e liberti di braccianti che lavorava giornate fu necessario proteggere l'industria italiana con una serie di dazzi protettivi cioè se veniva una macchina dalla Francia dall'Inghilterra analoga a una macchina prodotto in Italia doveva pagare un dazio perché noi proteggevamo il prodotto italiano la modifica della tariffa doganale e quindi dell'imposizione di dazzi all'importazione determinò una tragedia per l'industria per l'attività agricola e il sud perché perché a quel punto l'aumento dei dazzi all'ingresso in Italia comportò una ritorzione ad esempio da parte della Francia che tassò immediatamente l'esportazione italiana il sud esportava prodotti agricoli a un certo punto non l'ha esportato più l'ha esportato il 30% di quello che esportava prima e cominciò una guerra doganale con la Francia piuttosto pericolosa pensate che le nostre esportazioni scesero da 500 milioni a 160 e le nostre importazioni da 360 a 160 e quindi si scatenò una guerra commerciale che avvantaggiò ma solo in parte il nord ma certamente danneggiò in meridione facendo rincarare i prezzi dei prodotti perché ovviamente nel momento in cui non vendevi la roba non la potevi buttare sul mercato o meglio la buttavi sul mercato ma costava sempre di meno allora non producevi e quindi costava sempre di più e quindi questo andò a incidere sui consumi anche alimentari peggiorando la situazione io credo di avervi tediato abbastanza per oggi ho ancora qualche cosa da dirvi e poi passeremo alla politica estera che in un certo senso è più divertente anche se piuttosto umiliante ma no aggiungo ancora cinque minuti così finisco questa parte nel sud c'era una questione medionale l'abbiamo parlata all'inizio sud scontava secoli di arretratezza economica e culturale perché il regno del borbonne non era stato il regno del progresso perché se ne dica ma piuttosto del conservatorismo e il regno d'Italia aveva poco da offrire perché era un regno anche lui povero e quel poco che c'era nel meridione lo tolse a favore del settentrione questo non c'è dubbio perché il settentrione produceva il sud molto di meno non fu una politica di rapina come spesso si sente dire ma piuttosto fu la conseguenza del maggior sviluppo delle regioni settentrionali che erano amministrate in modo migliore e determinate dalla vicinanza geografica di cui vi ho già parlato con i grandi mercati europei il tesoro napoletano fu incamerato dal tesoro piemontese la moneta borbonica fu sostituita prima da quella piemontese e poi da quella italiana il debito pubblico napoletano che era piuttosto modesto andò ad aggiungerci a quello nazionale i commerci del meridione languirono sia perché perché c'era una competizione notevole fra il nord dove le merci passavano per strade che c'erano e per ferrovie che erano state costruite e nel sud andavano a dorso di volo d'asino poi c'era una incapacità diciamo tradizionale della gente del sud ad improvvisarsi imprenditori agricoli ed industriali questo è un fatto psicologico perché non c'era una tradizione di avventura di far west c'era più il senso del aspettiamo stiamo calmi e semmai chiediamo soldi allo stato eccetera eccetera e poi soprattutto esisteva da secoli il latifondo la mano morta ecclesiastica un'economia che era stata quasi esclusivamente agricola perché quegli sprazzi di buona industria che c'erano nel sud che cominciavano a formarsi nel sud al momento della sostituzione della dinastia erano finalizzati alla produzione di armi e poi di carri ferroviari cioè gli stabilimenti siderulgici ce ne erano due facevano solo armi cannoni e carri ferroviari tutta l'industria napoletana fece due locomotive in tutto e il terreno se ne facevano 300 tanto per il terreno era ai primi passi crollata la dinastia cambiato tutto c'è stato un inevitabile risucchio di queste esperienze laddove erano c'erano esperienze più mature e soprattutto con prospettive di mercato di esportazione più importante aggiungiamo che la guerra che era durata dieci anni non la guerra di Garibaldi che è durata pochi mesi ma la guerra contro i briganti aveva lasciato strascichi pesantissimi in un sistema che era già povero che non aveva infrastrutture specie per le vie di comunicazione se voi pensate che la gloria e il vanto dei napoletani era che la prima ad essere stati fautori organizzatori costruttori della prima ferrovia in Italia si riduceva a un giocattolo portare il re da Napoli a Casetta da una reggia a un'altra aggiungiamo poi che in questo quadro c'era la Sicilia la quale aveva un malessere non aveva una povertà maggiore ma aveva un malessere più forte sia per un'estrema povertà sia per un maggior senso di autonomia perché il governo napoletano considerava la Sicilia praticamente terra a terra di conquista ci furono moltissime contestazioni vere e proprie insurrezioni domande con la forza sia dai barboni sia dagli italiani l'Italia poi globalmente diciamo le cose come stanno aveva i salari più bassi d'Europa quindi la mano d'opera non costava niente ma non era questo un incentivo per gli investiti e aveva per converso un'imposizione indiretta fra le più elevate d'Europa ovviamente no perché bisogna colpire no gravando sui consumi poi soprattutto alimentari specie con la famosa imposta sul macinato che aumentava il prezzo della farina quindi del pane quindi della pasta quindi di alimenti essenziali in sostanza il posto sul macinato fu causa di numerose rivolte fu abolita all'inizio da Quintino Sella ma poi fu restaurata e i disordini che ed eseguirono causarono pensate 200 morti più di 1000 feriti e 4000 arresti cioè la lotta per il pane è stata una lotta sanguinosa soprattutto nel sud la vera guerra aggiungo un ultimo dato se qualcuno vuole segnarselo leggo nel 1861 6-1 il debito quindi conquista di Napoli conquista il debito pubblico era di 2450 milioni quindi 2 miliardi 450 milioni quattro anni dopo era più che raddoppiato e un terzo delle entrate delle entrate fiscali era assorbito dal debito pubblico ed un quarto delle entrate era assorbito dalle forze armate esercito e la marina nel 1866 quindi 5 anni dopo il 61 il nostro deficit di bilancio era oltre il 60% del totale in realtà condizioni miserevole povero il paese povero il meridione povero il nord poverissimo il sud ancora più povero e disperato la Sicilia voi capite che governare certamente non era facile e questo va un po' all'assoluzione di tutti anche di coloro che furono attratti dai quattrini della banca romana erano dei parvenini era gente che non sapeva governare non lo so certo era facile corrompere in quelle condizioni di miseria e occorreva attenzione occorreva allora una distrazione bisognava distrarre la gente i giornali il popolo con qualche cosa e la distrazione se l'inventò Crispi e fu l'avventura coloniale e lasciamo perdere lo vedremo la prossima volta e mi fermo qui e mi fermo qui io spero di non avervi annoiato certo non è un periodo né facile né gradevole ma è la nostra storia ragazzi non possiamo tirarci indietro così è stato è la nostra storia